Fischietto in bocca per l'arbitro, si parte, iniziata, Recanatese, Juventus next gen, buona partita. Prisco, sbaglia qua il retropassaggio, allora Guerra può andare, quasi in aria, Guerra entra dentro, ancora Guerra, destro! Palla alta, prima occasione per la Juventus, minuto 8. Ci prova addirittura Poli, palla che rimane lì, Sekulov, la fa rimbalzare, cerca la potenza, palla che si impenna. Attenzione, adesso ha la Recanatese che attacca Melchiorri, vorrebbe il cross, lo effettua, sbaffo, la caccia del pallone, di testa il palo, di sbaffo, grande stacco. Cominenzia, ne ha due addosso, decide di andare fuori, ancora da Asa, dribbling, Asa passa su un primo marcatore, dentro pallone, Salifu! La parata di Meli, che risponde! Bella azione nello stretto per la Juve, con Salifu liberato al tiro, Sekulov. Prova a dare nello spazio per Salifu, dentro pallone, Asa può calciare col destro! Ci arriva Meli a due mani, a bloccare. Longobardi, altro traversone, intervento risolutorio di Muoremovic. Sekulov, gran lavoro di Sekulov, fallo, punizione e cartellino rosso! Cartellino rosso per Prisco, che secondo l'arbitro è andato con troppa violenza su Sekulov. Rosso diretto per il numero 4, Antonio Prisco. E allora la partita cambia, Recanatese che rimane in 10. Damiani dentro da Salifu, bella palla per Anghele, che scarica al destro. Tiro centrale, Meli la inchioda lì. Batte direttamente in area la rimessa, Muoremovic mette fuori, altro pallone che arriva, Sbaffo gira. E' il vantaggio della Recanatese con il gol di Alessandro Sbaffo. Palla messa bene da Morrone. In area il pallone, anche lei cerca spazio, anche lei! Si oppone un difensore da fuori, Poli! Tiro centrale, parata in due tempi per Meli. Ci prova anche il capitano Fabrizio Poli. Insiste forte, ora la Juventus a Sekulov, Savona, cross dentro, palla che rimbalza. Sinistro potente di Rowi! A due mani, ancora Meli. Tiro un'altra volta centrale. Meli c'è! Buona qua la trama della Juve con Rowi. Arriva anche l'Eco il piattone! Murato, praticamente sulla linea da Shiba. Asa, buona la finta. Asa potrebbe anche calciare, preferisce andare al limite per Yoko. Yoko Lano, altra risposta di Meli. Quinto corner Juve, va Yoko Lano in mezzo per Muaremovic! Che anticipa tutti, schiaccia in porta e fa uno a uno. Crolla il muro della Recanatese al minuto 74. Primo gol in campionato per il bosniaco. Ottimo il corner di Yoko Lano. Muaremovic arriva in corsa di forza, in corna. Sabuna. Penso al cross. Poi tocca ancora all'indietro. Yoko Lano per Palumbo. Può scaricare il sinistro. Meli arriva al triplice fischio dell'arbitro. Finisce uno a uno tra Recanatese e Juventus Next Gen. Quindi è il dì abbiamo un po' di soli. Grazie a tutti